E' stata inaugurata ad Agropoli presso la Chiesa Madre dei Santi Apostoli Pietro e Paolo la mostra itinerante Ecce Omo, il Vangelo nelle opere di Andrea Guida. La mostra, allestita nell'ambito delle iniziative collegate al Festival della Teologia Incontri, giunto quest'anno alla sua quarta edizione, è promossa dall'Associazione Fabbrica di Idee in collaborazione con l'Azione Cattolica della Diocesi di Vallo della Lucania e la Scuola di Alta Formazione in Arte e Teologia della Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale, sezione San Luigi, con sede a Posillipo. Il percorso artistico e teologico proposto vuole indagare le opere di uno dei maggiori artisti del neorealismo meridionale in una luce nuova che lega profondamente la ricerca sull'uomo, sulle sue fragilità e sulla sua dignità, con la riscoperta del divino. Il percorso è proposto anche in una pubblicazione edita da Fabbrica di Idee dal titolo Ecce Omo, il Vangelo nelle opere di Andrea Guida. La mostra resterà ad Agropoli fino al 17 luglio, poi farà tappa a Marina di Camerota nell'ambito del Meeting del Mare il 25, 26, 27 luglio, poi a Caggiano presso Palazzo Bonitoliva dal 3 al 15 agosto e a Teggiano presso il Chiostro San Francesco dal 16 al 31 agosto.